Ben trovati al consueto appuntamento con le tendenze a medio-lungo termine. Andiamo a vedere che tempo ci aspetta nel weekend dell'8-10 di aprile, quando l'anticiclone nord-africano arrettererà nuovamente il suo raggio d'azione verso Levante, andando ad abbracciare il Mediterraneo orientale, lasciando quindi l'Italia nuovamente esposta all'ingresso di masse d'are più fresche in discesa dal nord-atlantico. Ne conseguirà quindi il passaggio di nuove perturbazioni che interesseranno il nord-ovest, ma anche vortici di bassa pressione che a tratti si porteranno anche verso sud-est. Di questo tuttavia ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti, ma per maggiori dettagli vi invito come sempre a scaricare l'app di 3B Meteo su smartphone e tablet.